Quella del 12 luglio 2016 sarà ricordata accanto ai fatti tragici del disastro ferroviario anche per la grande solidarietà dimostrata dal popolo pugliese. Tanti coloro che decisero in quella giornata, torrida e afosa, ma anche nei giorni successivi di raggiungere i presidi ospedalieri per donare sangue e per affrontare l'emergenza. Da ogni parte di Puglia e Basilicata sono giunti nel capoluogo in altri ospedali di riferimento per un gesto di gratuità assoluta. Per questo il governatore di Puglia, Michele Emiliano, a distanza di un anno ha voluto sostituire, per la data del 12 luglio, la giornata pugliese del donatore di sangue. Un modo per ricordare la tragedia dello scorso anno. I cittadini nei giorni del disastro donarono incondizionatamente. Con questa iniziativa attiviamo una connessione che mira a elaborare un lutto irrisarcibile con la diffusione della cultura della donazione, ha detto Emiliano, che ha aggiunto il 12 luglio è una data che rimarrà nella memoria di tutti perché induce a pensare e a ripensare su molte questioni che sono connesse alla cosiddetta responsabilità, rispetto alle azioni che ciascuno di noi compie nella vita quotidiana e professionale. È evidente che un incidente di quel tipo richiama tutti non solo all'osservanza delle regole formali, ma anche di quelle non scritte che consistono nella responsabilità di ciascuno. Abbiamo pensato che nel concetto di responsabilità rientrasse anche la donazione di sangue. Ognuno di noi, alle volte, fa le cose distinto in modo emotivo. Poi però c'è bisogno di dare continuità grazie a un'organizzazione che le associazioni predispongono in collaborazione con la struttura sanitaria regionale. Memorabile la fotografia della lunga, lunghissima coda di cittadini pugliesi in fila per ore per donare il proprio sangue. L'unica azione concreta che in quel momento si poteva fare per dimostrare vicinanza e solidarietà alle famiglie drammaticamente colpite. Istituire la giornata pugliese del donatore di sangue proprio il 12 luglio, data del tragico evento, significa quindi non solo ricordare le vittime e quanto accaduto, ma anche sostenere e dare giusta importanza e dignità a un grande atto di generosità. Una decisione è questa che però non ha incontrato il consenso dei familiari delle vittime di quel disastro, che hanno voluto incontrare il 23 giugno scorso il presidente Emiliano per chiedere l'annullamento dell'organizzazione della giornata della donazione di sangue regionale proprio il 12 luglio. L'associazione Strage Treni in Puglia ricorda che per questa regione la strage dello scontro dei treni, dove hanno perso la vita 23 persone, figlie, figli, madri, padri, fratelli, sorelle, nonni, nonne, rimarrà una data storica. È stata una strage annunciata, dice l'associazione, dovuta alla mancanza dei sistemi di sicurezza adeguati. Per questo hanno chiesto a gran voce che il 12 luglio sia per sempre ricordato come la giornata della sicurezza sui trasporti. Ricordando alle istituzioni tutte che il popolo italiano è da sempre in prima linea quando occorre donare sangue per le stragi o quando occorre aiutare chi ha perso tutto per un terremoto o una valanga. Il tricolore per noi ha un valore, dicono dall'associazione, cosa che non si può dire per chi ci governa. Abbiamo inoltre richiesto che gli studenti universitari della comunità colpita vengano riconosciuti come fuorisede per i forti disagi che subiscono giornalmente, ancora oggi, per la mancanza di buoni collegamenti con la città di Bari. Stessa idea è stata espressa dal consigliere regionale di Forza Italia Nino Marmo. È vero, il 12 luglio dell'anno scorso la Puglia ha dato una dimostrazione straordinaria di solidarietà, ha detto, con una gara senza precedenti per donare sangue. Tuttavia, davvero non comprendiamo la decisione di Emiliano di individuare nel giorno della memoria per le vittime dell'incidente ferroviario la giornata del donatore. Ci sembra irrispettoso per le famiglie delle vittime che gradirebbero ricordare i loro cari e quella tragedia in silenzio e senza mischiare il loro dolore ad altro. Famiglie, peraltro, non consultate prima di assumere questa decisione.